Luca Scorcella, direttore vendite Baldi, tanti novità presentate qui al Federico II, lungo quali linee vi siete mossi? Uno degli accenni che avete fatto, insomma i vostri venditori sono diventati consulenti, più che semplici venditori di un prodotto. La storia dell'azienda insegna che quando hai qualcosa da dire riesci a vendere al di là del prezzo e questo oggi diventa fondamentale. In un mercato in cui c'è una contrazione di consumi hai assolutamente bisogno di vincere la sfida argomentando qualcosa. Questo vuol dire prendersi la responsabilità di comunicare, di comunicare bene e di formare le persone che sono sul territorio. È esattamente quello che stiamo facendo con grande sforzo, grande fatica ma soprattutto con grande soddisfazione e questo ci sta dando anche dei grandi risultati in termini di vendite e soprattutto di prospettiva. Perché una volta formate le persone poi le trovi già pronte per le sfide future. Quanto è importante saper comunicare sia al grande cliente che al consumatore al dettaglio? È determinante, in realtà è un circolo perché noi riusciamo ad acquisire informazioni a 360 gradi. Serviamo grandi strutture, serviamo strutture nazionali e internazionali di distribuzione organizzata come i cash and carry. Siamo partner della più grande ristorazione d'Europa, Autogrill, ma serviamo quasi 2000 ristoranti al dettaglio in Marche e Umbria. Questo fa sì che riusciamo ad ascoltare un po' tutte le esigenze e a metterle a sistema in un'azienda che ha una grande capacità artigianale ma soprattutto poi questa artigianalità riesce a farla diventare industria.